Naturalmente è stata rendicontata l'attività dell'anno passato, come accade puntualmente. Intanto partiamo da un dato. Il 74% dei reati sono stati affrontati proprio dall'arma dei carabinieri, ancora una volta. Sì, questo è un dato che noi ricaviamo dalla banca dati delle forze di polizia, che ci dà la percentuale dei reati verificatisi nella provincia per cui ha proceduto l'arma dei carabinieri. È un dato sicuramente elevato, perché la media nazionale è di circa il 72%, mentre in questa provincia l'arma procede per il 74% dei reati. Questo è dovuto anche al fatto che la nostra distribuzione sul territorio provinciale è più capillare e quindi ovviamente quasi tutto quello che succede al di fuori del capoluogo è di stretta competenza dell'arma dei carabinieri. Questo ci responsabilizza per un verso, però ci inorgoglisce nel momento in cui le cose vanno abbastanza bene, come anche i dati ci hanno confermato per quanto riguarda il 2021, perché probabilmente siamo riusciti a rispondere alle esigenze in termini di sicurezza che ci arrivavano dalla comunità. Allora, quindi ancora una volta la provincia di Biella si conferma assolutamente tranquilla, il tasso di criminalità fortunatamente non è elevato. L'unico dato è un aumento riguarda tutti i reati contro la persona che in qualche modo insomma menzionano anche la litigiosità. Sì, l'andamento dei reati, soprattutto quelli che incidono maggiormente sulla percezione della sicurezza della popolazione, quale ad esempio sono i furti in appartamento o le rapine, sono tutti dati che sono in diminuzione rispetto agli anni precedenti. Non abbiamo avuto alcun caso di reato particolarmente grave, penso gli omicidi piuttosto che reati di criminalità organizzata o rapine a mano armata o rapine violente, ecco, che sono fenomeni non presenti. Abbiamo avuto un lieve incremento invece di alcuni reati che sono probabilmente sintomatici di una maggiore conflittualità, litigiosità che probabilmente è anche dovuta al periodo del Covid e della normativa che ha condizionato le persone e obbligandole ad una convivenza forzata e quindi anche tutti quei reati e anche quelle chiamate che sono giunte al 112 dovute a problemi di vicinato, liti fra condomini o anche infrafamiliari sono un po' in aumento nonostante non abbiamo avuto anche lì situazioni di gravità.